Forza Italia annuncia a Pineto il passaggio nelle sue fila di Paolo Passamonti, ex candidato sindaco, espressione della lista civica sicuramente Pineto. A farlo nel corso di una conferenza stampa il senatore Nazario Pagano, coordinatore regionale del partito, esattamente il giorno dopo aver incassato la soluzione, con formula piena, dal Tribunale di Rimini sulla vicenda Rimborsopoli che travolse la legislatura Chiodi. Ma oltre a illustrare l'opera di riorganizzazione di Forza Italia che vede su base locale la fattiva attività del coordinatore provinciale di Teramo, Gabriele Astolfi, si è parlato anche del cambio di casacca del consigliere forzista e sottosegretario alla presidenza della giunta regionale, Umberto D'Annuntis, approdato in Fratelli d'Italia. Pagano ha chiesto direttamente al presidente della regione, Marco Marsilio, il ritiro della delega e ha etichettato come gesto di debolezza l'attività di compravendita tra esponenti politici all'interno della stessa coalizione di centrodestra. Ciò che non va bene è che lui abbia mantenuto e che il presidente della regione gli abbia fatto mantenere delle deleghe che nulla avevano a che fare con lui personalmente ma semplicemente col partito. Quindi è chiaro che c'è un problema che andrà affrontato la prossima settimana, sono già d'accordo con il collega della Lega perché bisogna riorganizzare e rimettere a posto le cose. Noi non chiediamo di impasto, noi chiediamo semplicemente che Forza Italia, che all'esito delle elezioni regionali avrà avuto un certo numero di seggi, un certo numero di voti e per quelli fu fatto un negoziato, gli venga riconosciuto, c'è poco da rimpastare, basta che da Nuntis si dimette e basta e finita lì. Credo che fra alleati non si debbano fare queste cose, c'è un patto, il presidente della regione fu deciso che dovesse essere a livello nazionale, che dovesse essere un esponente di Fratelli d'Italia, Forza Italia ha accettato, insieme alla Lega ha accettato che fosse un esponente di Fratelli d'Italia, l'abbiamo lealmente sostenuto, arrivò per primo la Lega, per secondo Forza Italia, per terzo a Fratelli d'Italia, non si può utilizzare il ruolo di presidente della regione per creare squilibrio all'interno di una maggioranza che invece dovrebbe pensare a ben altro.